Gli eventi della settimana a cui non andrei Perché stai già ridendo? Perché non ho tutti gli eventi fino alla fine Ma me l'avevi promesso la settimana scorsa No, in realtà, forse mi sono dimenticata nel momento in cui li facevo Perché ho pensato solo a questo weekend Ah, cioè non è che non li hai cercati Vabbè, cari amici, avete capito che sono un po' così, ecco Una stagione intera che l'abbiamo capito che sei così Ah, che bello, oggi è l'ultimo giorno Sì, per fortuna, già è andato per fortuna nel senso Sì, no, siamo abbastanza stracchini, devo dire la verità Dai, a me mancano due settimane per dire questa cosa Vedi, 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 vedi Vedi, 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 vedi Ah, che bello, che bello Comunque ci scrive Marilena Good morning Fabio, ci mancherai tutte le mattine Grazie per aver fatto compagnia tutte le mattine Ci sentiamo a settembre, anzi, ci vediamo a settembre Anzi, ci sentiamo, così scrive Scrive anche Adriana, buongiorno Fabio Mancherai, mancherete tantissimo anche voi Ma tranquille, tranquilli Che da settembre torniamo e torniamo ancora Più forti di prima Sarà veramente un settembre Pazzesco, va bene Pazzesco Se devi continuare a farti i fatti tuoi col cellulare Fai pure, se no, se vuoi darci Le indicazioni di che cosa possiamo fare No, ma rispondiamo pure a tua madre Non c'è problema Mamma mia, quanta permalosità Per fortuna finisce così Allora, intanto, prima di tutto Evento di oggi A cui io sicuramente non andrò È il concerto Dei Club Dogo San Siro Sono già pronta Per far partire tutte le belle parolacce Per trovare parcheggio E per tornare a casa Allora, posso dire però che Club Dogo non lo so Ma quello di Sfera e Basta Non ha dato problemi di parcheggio Non ha dato problemi di parcheggio Non ha dato problemi di parcheggio Non so, d'altra parte sicuramente sì Ma di qua Dalla parte di qua di Via Novara Devo dire no Ma molto probabilmente perché sono così Giovani che Non hanno la macchina Ti guardavo male soltanto perché L'hai nominato Sfera e Basta Ma io ho capito Per me lui è nella blacklist Ma farò finta di niente E fa niente e andiamo avanti Quindi concerti a cui non andrei Sfera e Basta Assolutamente Club Dogo anche Anche Club Dogo Purtroppo li sento da casa Tra l'altro quello di Sfera e Basta Apre chiudo parentesi Si sentiva veramente tantissimo Non so se era il pubblico giovane Che a ogni cosa faceva Così faceva C'era dell'isteria di gruppo Sì esatto Vabbè Primo concerto Club Dogo Club Dogo Niente Non si va Poi so che con questo secondo evento Darò fastidio a qualcuno Però a me non interessa Io non andrò sicuramente Ma perché ci sono già andata In passato E ho detto Ok va bene Basta A concerti di Max Pezzali Perché è proprio Max Pezzali? Perché è un gran karaoke Degli 823 Ma credo che sia proprio Quella la volontà Del fatto Ma tra l'altro L'anno scorso Sì anche perché c'è una certa età Segui già più di me Perché non seguirei neanche la semifinale La finale Ma faccio una cosa più interessante Che però non sempre si può fare Cioè questa volta Sabato L'Italia gioca alle 18 Quindi io alle 18 e un minuto Sarò al supermercato Perché vi faccio questa rivelazione Tutti guardano la partita dell'Italia Che rivelazione Quindi questo sabato alle 18 Partirà l'Italia a Svizzera Con cui io ho un contenzioso Con cui quindi Io non guarderò questo Posso raccontarla questa cosa? Accontiamo il contenzioso Allora A ottobre 23 Andiamo in Svizzera Abbiamo un contenzioso aperto con la Svizzera No in realtà ormai non più però Infatti Però fa niente Andiamo in Svizzera Ok Prendiamo una multa Ok Per eccesso di velocità Andavamo a 35 all'ora Dove si andava a 30 Ci ha fatto proprio la foto L'abbiamo vista Ciaciaciaci Come hai fatto? Prendiamo la multa Mi arrivo a casa La pago con un po' di ritardo Ed erano tipo 100 euro Ok Che già insomma Vabbè Ho fatto l'italiana Cioè pago Pago in ritardo E pago quella lì Esatto Dopo neanche Forse 15 giorni Mi arriva una fantastica mora Questa fantastica mora Sono 180 franchi 180 franchi Sono più o meno 188 euro Ok Vado a pagarla Non c'era tempo per pagarla Cioè ti dicono O la paghi O quando arrivi alla nostra dogana Noi possiamo addirittura Fermarti il veicolo Ok Quindi Cosciente del fatto Che purtroppo Dobbiamo passare in Svizzera E apri Chiudo la parentesi Fare la vignette Ok Che costa 50 euro Più o meno Pago Sta roba Pago con bonifico Internazionale Perché Ok Era un Un IBAN svizzero Infatti perché La prima multa La prima svizzera È arrivata La prima multa È arrivata con IBAN tedesco Perché è in euro Perché è in euro In euro Invece questa qua Era in franchi Tra l'altro Tra l'altro Poi chiudo parentesi Io ho medio banca E non mi faceva fare il bonifico estero Fa niente Fa niente Comunque Uso banca intesa Esiste ancora medio banca Tra parentesi Sì Prima si chiamava Che banca Adesso è diventata medio banca Ah tornata ad essere medio banca Piccole cose di così Di economia Ma sì Non avendo soldi Di finanza Non avendo soldi Non ho questi problemi Vabbè Faccio il conto Il IBAN Bonifico da banca intesa Bonifico estero Internazionale Vuoi mettere a carico tuo O a carico Del Insomma Del ricevente Le spese E sulla multa C'è scritto Deve essere tutto a carico tuo Perché loro sanno già Cosa stanno andando in conto Esatto Sapete quanto costa Fare un bonifico Verso la Svizzera A me sembra assurdo Ragazzi 32 euro La multa Da 187 euro È diventata 219 euro Iuppi iuppi du Comunque l'ho pagata Posso andare in Svizzera Non vale da 5 km all'ora Esatto Posso andare in Svizzera E niente Questo era un piccolo aneddoto Ecco perché Gli svizzeri Non vanno mai più veloci Ecco perché Gli svizzeri Vengono in Italia E fanno quello che vogliono Ecco Ma comunque Questa piccola digressione Era per farvi capire Che in Svizzera Dovete stare lì Però all'evento Una settimana A cui non andrai La Svizzera Non è in quella Tu ci andrai in Svizzera Io ci passerò in Svizzera Non fermerò Sì lo so che mi piace È tutto così ordinato Sembra di stare in Giappone Quindi per forza Con l'unico fatto Che parla in tedesco Eh vabbè Ma il giapponese Non so cosa è meglio È più bello È più sonoro Il giapponese Sì ma capisco Tu sei più il tedesco Vabbè Io vado avanti con i miei eventi O vuoi mettere una musichina? No no Mi hai rubato la cosa Volevo dirlo io È stato amore È una prima insta Veramente bella La regina là che si faceva i fatti suoi È vista bellissimo Anche della webcam Che ci abbiamo in diretta Oggi è l'ultimo giorno Devono fare tutto Spaccate tutto Settembre ci serve tutto Ancora che funzioni Il ginger beer Ieri abbiamo bevuto La ginger beer Fantastica Non è alcolica Non si può fare una festa Dove non si vendono alcolici? No Sì facciamo la festa Dell'acqua frizzante Adesso farò Mi metterò su in piedi A ottobre Una bella festa Dell'acqua frizzante Ma ottobre poi? Ma perché ottobre? Perché ho deciso Ottobre al mese giusto Fine settembre A fine settembre Faccio la festa Dell'acqua frizzante Cioè non capisco Bevi responsabilmente E poi andiamo a fare queste feste Beh però puoi bere responsabilmente Nessuno beve responsabilmente Non hai fiducia nel genere? No no Assolutamente Andiamo avanti C'è un altro evento Che tu butteresti via la testa In piazza Gramsci Che è? Non mi ricordo Vabbè In piazza Gramsci A Milano Dal 28 al 30 di giugno C'è il festival della Carbonara E sì che butto via la testa Però posso dire una roba Anche questo Supergettonato Perché io credo Di averlo detto Almeno un'altra volta Ah pensate No no Piazza Gramsci Sono benissimo Non so perché Si chiamassi Piazza Grandi Invece no Piazza Gramsci È quella che c'è A Chinatown Per intenderci Ecco L'ingresso Sì sì Forno a più della Francesca Ok Fanno il festival della Carbonara Pensa col caldo Ma no Ma ho capito Ti bevi poi una birra Bevi responsabilmente Ah Chiaramente dentro Ai miei eventi A cui non andrei Non c'è il Pride Perché chiaramente Andrò alla parola del Pride Spero non nel troppo caldo E sicuramente Non farò il colteo Questo sicuramente È così Se fai la festa L'acqua frizzante Non so come va Se fai la festa Della ginger beer Adriana dice Brava Eri Anche io Quoto la festa Della ginger beer Sì Allora Ho scoperto questa cosa Siccome il ginger Si sedimenta Sul fondo della bottiglia Allora Secondo me In realtà Vanno messe dentro Dei bicchieri Esattamente come se fosse Una birretta Sì devi per forza Perché quando l'ho assaggiata Ieri sera Abbiamo venuta Nella bottiglietta Non è che puoi agitarla Più di tanto Se no fai Così E quindi ok Io continuavo già Sto bottiglietta Però effettivamente Sul fondo Rimane un po' di sedimento No sul fondo Ma vi do questa novità Ieri sera Io e Fabio Abbiamo riprovato La ginger beer Perché nel 2014 Quando siamo stati in Tanzania Sì Abbiamo bevuto Credo Milioni di litri Di ginger beer Sì E lì sì che ce n'era di fondo Sì Penso che ne abbiamo portati Delle cose in Italia E le abbiamo buttate Perché si era proprio Fatto bene il fondo Nel volo erano andate A quel paese Sì Tutto a quel paese Tutto a quel paese Vabbè Vi lascio con l'ultimo evento Ma poi Devo fare degli auguri Vi faccio prima L'evento E poi faccio degli auguri Allora Al Parco Mattei di San Donato Forse la nostra Elisa Sa anche bene dove è Ma credo di saperlo anch'io Il Parco Mattei È quello grosso Che c'è lì all'ingresso Vero Elisa Quello dove siamo stati Anche Il Parco Mattei di San Donato È quel parco grosso Sì Dice Sì È quello Posso dire Il Parco Mattei è quello dell'Eni Cioè C'è una roba A cui io non andrei Ma in realtà Forse sì È il Vikinga Fest In che senso Il Vikinga Fest Eh fanno la festa No si chiama Vikinga Non Vikinga Ah Vikinga Fest Eh fanno delle rievocazioni vichinghe Festa vichinga Sì A San Donato A San Donato Col caldo Famosissima Famosissima città dei vichinghi Però magari se ci sono i vichinghi Possiamo andare Vabbè Vediamo Ok Intanto Adriana ci scrive che Ragazzi sono arrivata al lavoro Vi abbraccio Ci risentiamo a settembre Certamente Buon lavoro Adriana Buon lavoro Ebbè così È così che si fa Buon lavoro Io volevo fare In conclusione Degli auguri Ah auguri a chi Innanzitutto volevo fare Tanti auguri di buon compleanno Al Balzo Sì Che ieri ha compiuto trent'anni Trent'anni Associazione del Balzo Abagio Hanno fatto una bellissima festa C'erano delle sedierine messe fuori Si stava bene È stato divertente C'era Lady Violet Che metteva i dischi Insieme ad Andrea Variale Ah ok Ormai L'MC L'MC Uso un mezzo pubblico Per uso improprio Vorrei fare Parole a caso Ho detto proprio Un mezzo Non sai vabbè L'ho detto giusto Sì 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 Volevo fare gli auguri Ha il mio amico Andrea Andrea Che oggi compie Credo trentasei anni Ma come credo Ho perso il conto Cioè non sai Cioè è il mio amico E poi non sai quanti anni compie Sì ma tanto fa niente Anche se ne compie sedici Va bene lo stesso Vabbè così Sì cerca di non morire Almeno oggi Ecco Arriva anche Alberto Salutarti Voglio salutare Erika Dice un saluto a Erika Buona estate Altra 3 1 7 8 5 3 5 5 5 Quindi anche i saluti di Alberto Sono arrivati Erika per te Alberto io ti ringrazio Ma la mia estate parte Fra due settimane Ho capito Eh cosa vuoi Cioè non sei qui adesso Pia ti saluti e via Cioè Sempre polemiche Comunque posso Posso sponsorizzare Un mio profilo In che senso Un mio profilo Instagram Va bene profilo Ah se volete vedere Le mie vacanze Insieme alla persona Che vive con me Eh Andate su Instagram E cercateci come One Clip A Day One Clip A Day Sì A Day E sarà divertente Va bene ragazzi Io vi ringrazio Come sempre È stato un piacere Spero di poter venire Anche l'anno prossimo Cioè l'anno prossimo Insomma settembre Ok Eh E niente Buonanotte al secchio Ecco Ho invitato Ah vedi Alberto Anche lui gli auguri Deve fare Dice Augurami un nipote Federico Che domenica Compie 17 anni Grande Federico Nato sotto il segno Del cancro È vero Nato Invece Nato sotto il segno Del Lorenzo Masieri Ariete Ma vorrei dire pesci Visto che C'è quest'odio profondo Ieri bene confronti Di Antonello Venditti Giusto In realtà no Lo apprezzo soltanto Per notte prima degli esami E in questo momento Anche compagno di scuola Hai visto Compagno di scuola Stupendo Eh sì Fabio non apprezza Ma non è che non apprezza No venditti Non mi è mai piaciuto Lo sei finito in banca pure Ti sei salvato Sei finito in banca pure tu Sì infatti Fabio è così Non sono finito in banca Sono finito qui A sentire voi due Castronerie Comunque invece Complimenti alla maglietta Di Lorenzo Masieri Descriviamola per chi Ci sente in radio È la maglietta di Super Giovane Dei Dei Elio delle Storie Tese La canzone Dei Elio delle Storie Tese In cui Mangoni Interpreta questo Supereroe Che combatte i Matusa Combatte i signori Milanesi Lui si sente un super giovane Anche lui Secondo me si sente un Matusa Anche 7 di mattina Mi sento tutto Tranne che un super giovane Mi sento tutto Era già più bello Mi sento tutto Mi sento Mi sento su Ponte Raghisolfo Mi sono sentito tutto Com'è stato fare il Ponte Raghisolfo In bicicletta Con la nuova pista ciclabile? Infatti non è cambiato niente Ah perché non c'è la pista ciclabile Infatti ecco No visto che abbiamo iniziato A settembre Dando questa notizia Che doveva arrivare La pista ciclabile Ci ritroviamo al 28 giugno E niente pista ciclabile ancora No assolutamente Ma chissà per quanto tempo Ecco Però si vedrà Si vedrà Sono fiducioso Beh fiduciati No Per chi sta guardando C'è un segno Ineconvocabilmente italico Che Scusami Mi viene una citazione Ecco Sentiti fiducioso Sbam 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 Non sono dalla sua parte Non sono dalla parte di nessuno Però fa niente Però ti dispiace in fondo No E' la sua povere Pena detto Sbam Sbam Silvio in onore di Silvio Berlusconi A me ne sai che me l'ho persa questa cosa Chiudo parentesi Chiudo parentesi Io no Non me l'ho persa Ma avrei voluto perdermelo Dico la verità Sì Sì Ma in maniera ironica Me lo auguro Si chiama ufficialmente Sì 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 Chiaramente Me lo auguro Dopo lo scherzo a Salvini Non so Però comunque Basta Ok Basta Ecco Io non mi sono perso Io sono fermo a sei mesi fa Dopo facciamo un recap Che cosa è successo Ma Carlo Manguzzi è ancora Capogru Non è più Capogru Lo so Lo so Per questo lo ho detto Va bene dai Va bene ragazzi Buon divertimento Happy day Va bene Andiamo avanti con la musica E poi appena ritorniamo Giornale Radio E poi qui con Lorenzo Masieri Per fare l'ultima ora Per chiudere Questa stagione di Good Morning Milano Come l'abbiamo aperta